Questa notte abbiamo degli ospiti molto particolari, allora ho bisogno di sentire un grande, grande applauso sulla fiducia, voi capirete per me, del Dying Trial Show, vengono altri, vengono Andrea Manki Un'altra parola, Andrea Manki Con le mani ai 5, a 3,5, grande Andrea Manki Sì, 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 sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì.